Scuola di giornalismo promosso dal Cidis, Credita Agricolca Riparma e Libertà. Prosciuga il conto della vicina, una 48enne romena arrestata per aver convinto una novantenne a darle 20.000 euro in tre mesi, accusata di circonvenzione di incapace, 7 casi in 6 mesi, appello della polizia. Intossicazioni alimentari, 97 senazioni, di queste l'asla ha accertato 17 casi da gennaio ad oggi, ispezionati 6 ristoranti e una pizzeria, una cinquantina le allerte alimentari, tutti dati nel TGL+. Cassel San Giovanni stop all'accattonaggio, allontanati dal paese 20 cittadini stranieri arrivati in treno e autobus per chiedere l'elemosina nei giorni di mercato. LPR piega la capolista Trento, col paccio della squadra piacentina nel recupero della quinta giornata di campionato la squadra bianco-rossa batte al palavanca il Diatek Trentino.